Non sarà efficace e cattiva a sufficienza, ma non è nemmeno fortunata. Ritratto della Fidelisandria in questa prima parte di 2022 sul campo. Se la sconfitta di Coppa Italia nella semifinale di andata contro il Sud Tirol, giocata in 9 per 70 minuti, non fa testo, i due punti maturati nelle prime tre partite di campionato dell'anno solare sono frutto di un paio di disattenzioni difensive, delle ferite tecniche di una squadra ancora convalescente, ma anche della sorte, che sembra aver voltato le spalle a Casoli e compagni. In attesa di capire quale sarà il futuro della panchina bianco-azzurra, nel derby di Foggia dovrebbe toccare ancora la coppia di Leo Di Bari, ma sia Nicola Legrottaglie che Massimiliano Tangorra restano opzioni valide sullo sfondo per il dopo Ginestra, c'è un dato di cui tener conto. Negli ultimi 270 minuti giocati, la Fidelis ha colpito ben cinque legni. Una trafila poco piacevole, avviata nello 0-0 sul campo della Vibonese, l'ha inaugurata in Calabria Bortoletti, facendo tremare la porta di Marson, trovando la traversa su cross di Casoli, l'ha proseguita di piazza, mettendo a sedere con una finta il diretto marcatore su invito di Bubas e cogliendo il palo, in pieno, da pochi metri. Anche nel K.O. interno per 1-0 contro il Campobasso non poteva mancare l'impatto sul legno, a trovarlo ancora di piazza sullo 0-0. Partenza sul filo del fuorigioco sul lancio di Alcibiade, sterzata in area, sinistro a giro e pallone che si stampa sul secondo palo, a portiere avversario battuto. Pocherissimo raggiunto infine nel match infrasettimanale del Dei Gliulivi contro il Catania, questa volta però sul palo colto da Bubas di testa dopo la deviazione di Sala si è fatto trovare in agguato quasi sulla linea di porta a Risolo, bravo a siglare il suo primo gol con la Fidelis. Meno fortunato Gaeta sull'1-0, l'ex Paganese è stato bravo nel controllo e nel tiro, ma il suo sinistro da 10 metri si è infranto ancora una volta sul palo. Pricuel all'1-1 Catanese, arrivato nel secondo tempo con Russotto, aiutato, lui sì, dal bacio sul legno. Certo è che la fortuna non sta accompagnando la Fidelis in questo momento. Di buono c'è la reazione di squadra, arrivata dopo l'interruzione burrascosa del rapporto con Ginestra e l'arrivo del tandem di Leo Di Bari in panchina. Prossima tappa, il derby di domenica a Foggia contro i rossoneri di Zeman, dove sarà tempo di cercare una vittoria che in campionato manca da più di due mesi, dal 2-3 del 28 novembre a Messina.